Davies Cup Davies Cup, bivio belgio, Goffin deve battere Chirgios Pomeriggio di fuoco a Bruxelles. Il belgio, padrone di casa, deve recuperare un punto dopo due giornate. La qualificazione alla finale del gruppo mondiale è appesa ad un filo sottile. Per giocarsi la Davies, occorre vincere gli ultimi due singolari e respingere così l'avanzata dell'Australia. Sul rosso indoor del Palace 12, David Goffin, sospinto dal pubblico amico, tenta l'impresa. Dopo il successo d'esordio con Millman, il folletto belga attende Nick Chirgios, il tenniste principe della rappresentativa rivale. Una corsa di rimonta per Chirgios nella giornata di venerdì, 2-7 a 1 sotto con l'esperto Darcis. Ieri, poi, il doppio, nettamente favorevole a Piels e Thompson. Il quadro è piuttosto chiaro, la prima partita odierna ha il sapore dell'atto ultimo. Darcis, infatti, parte ampiamente avanti, nei pronostici, con Millman. Goffin può quindi lanciare il connazionale verso un ritorno di gloria. Il bilancio del nativo di Rockport con Chirgios non è per ora assicurante. 0-3 al momento il conto complessivo. Finale a Tokyo lo scorso anno, 75 al terzo Chirgios. Nella stagione corrente, doppietta australiana a Miami e Cincinnati. Un denominatore comune, la superficie veloce, affine a Chirgios e meno a Goffin. Come detto, oggi si gioca sul rosso e la terra può rimescolare le carte, favorire le variazioni di Goffin e limitare l'incidenza dei colpi potenti di Chirgios, apparso al terno nella sua prima performance in Belgio. L'incontro è in programma alle 13, a seguire Darcis, Millman. Darcis si difende egregiamente in questo contesto, come dimostra il titolo nel Challenger di Bordeaux con Dutro Silva. Più recente la partecipazione al torneo di Meir Butch? Ritiro prima del secondo turno con Kuhn. Nessun precedente con Millman. Per l'australiano, due sole partite su terra nel 2017. Sonore sconfitte Campanello d'allarme. Belgium 1, Australia 2. Venue, Palace 12, Brussels, Bell, Clay, Indoor. David Goffin, Bell, D. John Millman, House, 67-4-64-63-75. Nick Chirgios, House, D. Steve Darcis, Bell, 63-36-67-5-61-6. . .